Salve a tutti, ecco a voi 15 film da non perdere se siete appassionati di aviazione. Partiamo con la prima guerra mondiale. Ci sono tanti film ambientati in questo periodo, ne prendo solo uno che è recente e che sento di consigliare. Red Baron, il Barone Rosso, è un film in parte biografico e se non l'avete fatto vi consiglio di leggere il libro preso dal diario del Barone Rosso stesso. Il film è ben fatto e che vede utilizzare repliche volanti e GCI e si presenta con un certo grado di realismo, senza le solite licenze poetiche hollywoodiane. Passiamo direttamente a Seconda Guerra Mondiale. In attesa di Master of the Air, in arrivo a partire dal 26 gennaio 2024 e a cui dedicherò un video appena possibile, se cercate un film sulle fortezze volanti, allora quello che fa per voi è Memphis Belle, del 1990. È la storia di un equipaggio di B-17 che partecipa ai re dei diurni sulla Germania. Film ben fatto e realistico, soprattutto per il suo tempo, nonostante alcune licenze poetiche, è davvero un film che consiglio di vedere. Passiamo ad un altro film che è semi sconosciuto, si chiama Dark Blue World, del 2002. Questo film si fa guardare fino alla fine e racconta le vicende di due piloti cecoslovacchi scappati dall'invasione nazista e che si arruolano nella RAF per partecipare alla battaglia in Inghilterra. Il film è molto intimo e delicato e a confronto per l'hardware di Michael Bay sembra una telnovela. I lunghi giorni delle Aquile del 1969. Questo è considerato il film sulla battaglia in Inghilterra per eccellenza. Se non l'avete visto ve lo consiglio perché ancora oggi rappresenta uno standard di riferimento. Realistico e dettagliato, racconta quei giorni assurdi in cui i piloti morivano come mosche. Passando invece a un film più recente, vi consiglio Midway del 2019. Su questo tema ovviamente ci sono due titoli che sono iconici. Uno è Tora Tora Tora, l'altro è La battaglia delle Midway. Entrambi considerati film di culto, sia per l'accuratezza che per le immagini spesso prese dal vero. Mentre per quanto riguarda il film Midway del 2019 è piuttosto accurato, nonostante l'apparenza da cinepanettoni americano. E la GCI è ovunque ma si presenta piuttosto bene. Un film sconosciuto e abbastanza introvabile è Caccia Zero, Terrore nel Pacifico, Ozora no Samurai del 1976. Questo film è più un documentario su uno spaccato della vita di Saburo Sakai, pilota di zero che ha operato nel Pacifico e su Guadalcanal. Il film si presenta crudo con la sua drammaticità, mostra la tragedia umana e la disfatta dei piloti giapponesi soccombere di fronte ai numeri della flotta americana. Vi consiglio inoltre di leggere il libro se non lo avete fatto. Il film è interessante perché ha degli effetti speciali presi tipicamente da stop motion e miniature giapponesi. Un altro film interessante è sicuramente Dunkirk del 2017. Non è propriamente un film di aviazione ma c'è una componente nella trama e racconta la storia di questo pilota della RAF che partecipò all'esodo in poche parole. Interpretato da Tom Hardy, in realtà c'è qualche licenza poetica ma fra le musiche e il montaggio alternato essendo un film di Christopher Nolan è sicuramente interessante. Adesso vi parlo di due film di animazione a cui tengo particolarmente, il primo è Porco Rosso del 2010. Film e animazione di Ayao Miyazaki di altissimo valore storico invece fu boicottato dai critici italiani, spesso ignoranti e politicamente schierati. Questo perché il film ambientato nel ventennio fascista con le sue frasi scansonate ha fatto estorcere il naso a persone incapaci di confronto. Questa reticenza a passarlo nelle sale o addirittura a stabilire che il film non fosse adatto ai bambini ha dato al maestro Miyazaki una grande tristezza, essendo un vero amante della storia dell'aviazione e soprattutto dell'Italia. Non solo è un film per tutti, bambini e non, ma è molto moltissimo di più, in quanto potremo vedere all'opera i magnifici idrovolanti della Coppa Schneider. Insomma vi riempirà gli occhi di meraviglia. Altro film di Miyazaki, venuto poco dopo, è Si alza il vento. Ancora qui un contributo e tributo a suo padre un ingegnere aeronautico, protagonista l'ingegnere che inventò lo zero. Ma nei suoi sogni il protagonista incontrerà l'ingegner Caproni e insieme i due avranno delle visioni in cui vedranno i primi prototipi e i loro primi voli. Con un'accuratezza e cura dei dettagli che solo il grande animatore giapponese poteva fare. Alcune ricostruzioni sono così accurate da rappresentare un elemento imperdibile, dal momento che fotografie e filmati dell'epoca originali sono andati perduti. Il film è bellissimo da non perdere. Passiamo invece alla Guerra Fredda e Guerra Moderna. Un film carino è Aira America, un film ironico che, insomma, racconta di fatti realmente accaduti, per cui, anche se si presenta come un film comico, ha nascoste tante chicche e un certo realismo di base. Oltre che a vedere Gibson e Robert Doven Jr., così giovani insieme, è davvero divertente. Uomini veri, the right stuff. Questo cult per gli appassionati è uno spaccato della storia dei primi voli supersonici fino ai programma Gemini, con le sue storie dei piloti collaudatori che sono diventati leggendari, come Chuck Jager e Neil Armstrong. Insomma, la storia racconta di questi voli spericolati. Altro film che è stato, diciamo, passato in sordina, non molto noto, ma che è molto recente, è The First Man. È un nuovo film, che in realtà è un capolavoro. Trovato in HD o Blu-ray e con un ottimo impianto sul round delle cuffie, perché la forza di questo film è negli effetti sonori e visivi, con questo modo iperrealistico di fare cinema che è veramente convincente. È un film biografico su un pezzo della vita di Neil Armstrong. Poi abbiamo Forza G, per quanto riguarda sempre gli anni 70. È una piccola chicca italiana, per chi non la conosce, insomma, recuperatelo. Peccato che al tempo tutte le pellicole dovevano avere un certo retrogusto erotico, però il film è una commedia carina e divertente che racconta la storia di un pilota che fa di tutto per diventare solista della pattuglia acrobatica. Il protagonista del film è indubbiamente il G-91, il primo aereo adottato dalle frecce tricolori. Le scene sono prese dal vero e molti piloti nel cast sono in realtà i piloti veri della pattuglia del tempo. Non serve dirlo, ma le musiche sono di Ennio Morricone. Altro film molto interessante è Sky Fighter, Les Chevaliers d'Ucel. Film francese che per me è davvero la migliore alternativa a Top Gun. Le immagini sono belle e prese dal vivo, insomma, una gioia per gli occhi. E la storia non è niente male, è un thriller fantapolitico che se la si guarda in prospettiva è convincente. Film leggero ma che si appresta soprattutto per le sequenze prese dal vivo e che vedono il mirage protagonista assoluto. Unico film nella lista preso dall'aviazione civile che tratta di aviazione civile è Selly, che è più che altro un documentario con un grado di realismo eccezionale e che ci piacerebbe tanto vedere nei film del genere. I dialoghi del film, le ricostruzioni sono assolutamente fedeli e non c'è molto altro da dire, insomma, ci sono poche licenze poetiche. E questo è quanto, lo so, ci sono tantissimi altri film da poter essere menzionati in questa lista. Ho voluto limitare un po' la scelta, soprattutto perché alcuni sono abbastanza difficili da trovare, passatemi il termine. Spero non me ne vogliate. Come sempre grazie, vi invito a iscrivervi al canale e a mettere mi piace, perché fa davvero tanta differenza. Un grosso abbraccio, alla prossima!